salve a tutti i ragazzi bentornati nel mio canale qui tratteremo retro gaming da diversi costrucchi e collezioni, vi illustro anche i miei giochi, in più ci sono formati di alcuni come lego, se vi piace il mio canale iscrivetevi commentate lasciate un like buona visione grazie a tutti 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 grazie a tutti